Dieci persone arrestate all'alba di oggi, 28 kg di droga sequestrata nel corso delle indagini. Sono questi i numeri di un'operazione conclusa all'alba dai carabinieri del Comando Provinciale di Pescara che hanno individuato un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti fra Abruzzo e Marche. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara non sono ancora concluse. Un'operazione che è durata dal mese di novembre del 2020 fino quasi alla fine del 2021. Un'organizzazione piramidale che ha visto coinvolte 28 indagati di cui stamattina 10 tratti in arresto e portati in vari carceri d'Italia. In precedenza erano già state tratti in arresto 6 persone, tutte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre al coinvolgimento di alcuni minorenni appartenenti a due gruppi familiari tra gli indagati. È stato arrestato un ragazzo di origini albanesi che faceva da corriere dall'area balcanica fino alle province di Pescara interessando anche l'area di Montesilvano. Tutta l'attività investigativa, oltre 28 kg di stupefacenti per un valore di circa 800.000 euro. Sostanze stupefacenti, prevalentemente eroina, cocaina, marijuana ed ascice.